La business school della Lewis, Lewis Business School, da anni ha messo al centro della sua strategia un obiettivo, quello di formare giovani e meno giovani con un'unica finalità, leaders for a better world. Cioè noi crediamo che la leadership in tutti i livelli, a tutti i livelli, soprattutto a quelli manageriali, debba essere rivolta a coniugare obiettivi sicuramente di crescita del valore economico, delle realtà aziendali, ma anche di crescita del valore sociale, quindi di rispetto dell'ambiente e della sostenibilità a tutti i livelli. Per fare questo il lavoro che si fa in aula è cambiato radicalmente, non si lavora più esclusivamente su strumenti e tecniche di natura manageriale e finanziaria, ma si coniuga questo con problemi reali che affrontano le crisi ambientali, che affrontano scelte di investimento in contesti limite, che da un lato agevano il rispetto di obiettivi finanziari e dall'altro il rispetto degli obiettivi ambientali. Cioè noi forziamo i nostri studenti a formare se stessi con una prospettiva più ampia, non solo di valore finanziario, ma anche di valore sociale.